Champagne starebbe pensando di tornare in territorio ucraino, in Ucraina. Per quale motivo vi starete chiedendo per andare a combattere contro il dominio russo, contro il dominio della Russia? È stato lui stesso a disvelare ciò attraverso un'intervista che di recente ha rilasciato il 61enne, che a febbraio, vi ricordo, aveva lasciato l'Ucraina, dove stava girando un documentario, adesso fa sapere a tutti che ha intenzione, vorrebbe, diciamo così, tornare proprio in Ucraina per combattere contro quello che è il dominio della Russia, contro quello che è il dominio russo, contro quindi quello che è lo strapotere di una Russia sempre più egemone, sempre più boiosa, di farcela sempre più boiosa, sempre più interessata a conquistare più territori possibili appartenenti proprio alla Ucraina. Che cosa accadrà in futuro? Mi sto chiedendo questo e vi sto chiedendo questo, anche per sapere qual è il vostro punto di vista, barra la vostra opinione, e sapere quindi che cosa ne pensate. Io ovviamente, ripeto, ovviamente, mi auguro che questa guerra finisca il prima possibile, che finisca presto, perché ovviamente è un cancro questa guerra per il paese chiamato Ucraina, vi si è considerato che proprio tutta l'Ucraina è stata letteralmente ridotta, o meglio rasa al suolo, e questo è un qualcosa di brutto, di negativo. Un paese bello come l'Ucraina non si merita un trattamento del genere, non si merita di trovare, di avere tutte queste città, a partire da Kharkiv, da Kiev, la capitale, dal Donbass, e tutte le altre, rasa al suolo. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, iscrivetevi, commentate, da Narodoro Italiano è tutto, ciao a tutti.